Dalla guerra alla pace, 1918-2018, titolo emblematico per la mostra allestita a Palazzo Lascaris rimarrà aperta fino al 14 di dicembre. È un'esposizione che racconta attraverso 46 opere pittoriche e di scultura di grandi artisti italiani di fama internazionale, tra gli altri Balla, Sironi, Guttuso, cento anni di storia dell'arte in Italia, dalla fine della prima guerra mondiale ad oggi. Ma è soprattutto l'espressione, attraverso figure e colori, del desiderio di pace. Una pace che il vecchio continente gode da 73 anni, come ha ricordato Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale, sotto la cui egida è stata organizzata la mostra a Palazzo Lascaris. Curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, le opere rappresentano tutte le correnti artistiche del Novecento, dal figurativo all'astrattismo, anche per mostrare come i pittori abbiano voluto esprimere i diversi sentimenti dell'uomo che può essere allo stesso tempo portatore di violenza, dolore e guerra, ma anche di amore e di pace. Siamo riusciti in questa mostra a documentare cento anni di arte contemporanea, ma soprattutto inserendoli in due locali attigui, la prima parte dedicata alla prima guerra e a tutto quello che è avvenuto in questo periodo e la seconda parte dedicata dal secondo dopoguerra in poi. Dalla guerra 1918 alla pace 2018 rimarrà aperta fino al 14 dicembre.